ciao a tutti benvenuti bentornati sul canale in un nuovo unboxing carino e coccoloso da edicola e da bancarella e anzi direi di più questa volta solo questo da bancarella perché queste due cosine qua le ho trovate in un supermercato a 98 centesimi quindi non neanche un euro ragazzi quindi fantastico miglioriamo sempre di più come prezzi e sono molto curiosa di vedere che cosa sono allora ve le faccio vedere in anteprima allora questa è della sbabam ed è della linea cocoro quindi gli amici del cuore cocoro baby magic color allora da come ho capito noi avremo un animaletto che bisognerà fargli il bagnetto perché c'è scritto fai il bagnetto al tuo cocoro e scopri quale troverai quindi probabilmente saranno sarà un animaletto colorato di un colore che va a sciogliersi con l'acqua e vedremo chi abbiamo trovato ovviamente io ho visto che ci sono coniglietti e vorrei coniglietti vedremo chi abbiamo trovato collezione tutte le emozioni dei cocoro qua ci sono i vari cuoricini non so bene come sono in realtà perché se non sbaglio non ho mai preso nulla dei cocoro o cocoro come si dirà cocoro o cocoro non lo so se com'è cocoro vabbè lasciamo perdere comunque questi gli Atchimals Alive allora se voi vi ricordate degli Atchimals avevo già preso qualcosina anche su Aliexpress tempo fa questi mi hanno incuriosito tantissimo ne ho preso solo uno per il momento si chiamano Atchimals Alive ci sono un sacco di animaletti e sinceramente non ho ben capito se c'è solo l'animaletto se c'è perché vedete un pacco un set non lo so andremo poi a vederlo e poi ho preso questo a 98 centesimi con scritto glitter surprise sempre della Sbabama anche qua dovrebbe essere un animaletto glitterato dentro l'ovetto allora io direi che inizio dal cocoro e vediamo che abbiamo trovato allora la scatolina penso si apra normalmente sì qua vedete che fa vedere aspetta mettere a fuoco ok vedi fa vedere per esempio puoi trovare questo e può essere di questi vari colori e a seconda del colore è diciamo un'emozione io spero di aver trovato il coniglio ma non lo so vediamo allora intanto volevo vedere una checklist quindi mi tolgo un attimo dalla telecamera e vediamo se riesco a non farmi spoiler e a prendere la checklist allora no no non posso non farvi un spoiler perché è troppo carino allora abbiamo ok abbiamo che intanto penso sia un orsetto però guardate che carino no vabbè ma è super carina sta cosa allora vabbè abbiamo un biberon in miniatura aspettate che mette un po' più a fuoco un mini biberon azzurro poi abbiamo la vasca da bagno per fargli il bagnetto la pezza tipo proprio per pulirlo no vabbè io adoro sta cosina e poi abbiamo il nostro cocoro così vedete che ha tutta questa patina verde che andrà via con l'acqua do però un'occhiata alla checklist se c'è vediamo eh allora sì facciamo più o meno così allora in pratica ci sono quattro tipi ci sono il cagnolini i gattini i coniglietti e gli orsetti io volevo troppo il coniglio di questi mi piaceva tantissimo pochi anche Bubi insomma tutti i coniglietti oppure mi piaceva molto il gattino Mimi e invece noi abbiamo trovato questo vediamo un po' chi è potrebbe essere o questo qua quello verde o questo qua quello azzurro blu oppure quello glitterato allora a vederlo così vediamo un po' facciamo un giochino a vederlo così secondo me è questo non lo so a sentore e dudu quindi quello bianco e blu allora io ovviamente non vado qua perché so già che faccio un pasticcio mi sono preparata una bella tazza vediamo di non fare troppi danni aspettate che me la metto un po' più avanti e vediamo vediamo c'era non viene via niente madonna mia queste vabbè vien da ridere allora dai e voi mi starete chiedendo ma scusa se c'era la pezza perché tu ti devi fare le mani lerc così e voi avete anche ragione allora inizio a vedere mi sa che è quello glitter no è quello glitter no non ci ho preso allora gli faccio un bagno più decente perché così non so dove andiamo a finire faccio un macello quindi lo vado a lavare bene lo pulisco e torno ed eccomi qua dopo avergli fatto un bel bagnetto allora è super carino veramente carino è tutto glitterato non è proprio un azzurro dalla checklist sembrava azzurro tipo proprio cristallo invece un verde acqua tipo un po' un po' acceso anche ha questo bellissimo cuore lancione ma vabbè allora in realtà il cuore è giallo secondo loro non è quello arancione quindi dovrebbe essere felicità oppure amore perché forse è arancione non lo so non si capisce no arancione sarebbe più questo rosso non lo so comunque è molto molto carino ha il suo biberon non so se si può anche tipo mettere sì vedete beve anche dal suo biberon è carino niente da dirgli è molto molto carino io ne ho un altro in realtà non lo vado ad aprire adesso ma in un altro unboxing e niente diciamo che spero non sia un doppione per il semplice motivo che non ho guardato il codice e guardando adesso il codice è uguale quindi se è un doppione sarà un po' un dispiacere per non aver trovato i coniglietti anche perché non li ho più trovate queste qua purtroppo però boh diciamo che pazienza se invece ho visto che alcuni non hanno cioè nel senso non è un codice quella cosa che ho visto potrebbe essere che ho trovato qualcun altro ma lo vedremo in un altro unboxing quindi questo io gli darei un bellissimo voto 9 perché secondo me è veramente carino è bella l'idea è carino l'orsettino insomma molto carino ora vado a spacchettare questi perché sono molto molto curiosa di vedere come sono allora aspettate che sposto un po' tutto e vado a aprirlo faccio qualche taglio se no non riusciamo più a cavarcela allora ho aperto la scatolina e guardate un po' si presenta così e mi ha sconvolto perché non l'immaginavo che cos'è allora vediamo un attimo anche qua è da schiudere non me lo dire allora abbiamo questo vetto così abbiamo un biberon che tra l'altro è fatto benissimo ed è anche gommoso e come si apre aiuto come fai ad aprire questo vetto andiamo a vedere se c'è scritto qualcosa perché aiuto allora qua c'è una piccolissima ah ok no vabbè ma dai ma queste cose qua sono troppo cioè allora c'è scritto rimuovi il ciuccio quindi questa parte qua riempi d'acqua il biberon metti il biberon dentro il buchetto che si è formato del ciuccio e dovrebbe uscirti fuori l'animaletto no vabbè ma ma ragazzi ma stanno facendo delle cose complicate quindi vado viene da ridere devo fare tutte queste cose comunque rimuovi il ciuccetto qua vedete questo così ok si prende il biberon si riempie d'acqua no raga non ha registrato non ci credo no no non ha registrato io gli sparo allora no mi dispiace perché era una cosa veramente carina allora in pratica ho dovuto riempire il il biberon di acqua l'ho infilato qua lì l'ho spruzzato dentro e si è schiuso l'uovo in poche parole si è aperto l'uovo ed è nato il nostro piccolo atchimals riesco a tirarlo fuori sì è piccolì allora ma quanto è carino è piccolissimo ma è carino mi spiace non avete visto tutto il processo vabbè ve ne comprerò poi un altro se lo ritrovo almeno ve lo faccio vedere ma porca miseria in pratica niente è un'idea geniale secondo me qua sotto c'è una spugna che quando noi andiamo a metterci l'acqua sale praticamente si gonfia e fa uscire il nostro piccolino allora la nostra piccolina latchimals e non ho capito che cosa sia mi sembra un'alpaca sinceramente vista così ed è super carina mignon ma veramente carina eccoli a luce e ha una spazzola voi non sapete quanto sono arrabbiata che non ha registrato quando ho fatto sta cosa perché ho messo in pausa per andare a prendere l'acqua e purtroppo poi non ha non ha più ripreso in tempo quindi mannaggia alla cosa vedete dentro che ha la spugna sotto e era bellissimo da vedere mi viene da piangere non ve l'ho fatto vedere mannaggia era veramente bello perché voi spruzzavate dentro questa acquetta e da qua usciva la cosa cioè era bella anche la mia reaction era bella niente è andata così ragazzi purtroppo comunque ho guardato che si può fare sia in questo modo qua oppure metterlo diciamo a mollo in una tazzina insomma in un piattino e fa la stessa cosa ho visto anche che visto che lei ha il suo buchino qua gli possiamo mettere il ciuccetto ecco perché c'è il buchino così vedete è molto carina devo dire che è molto molto carina ragazzi visto che sono già dieci minuti questo lo andiamo a unboxare tra virgolette la prossima volta e niente entrambi molto belli molto molto belli mi girano le scatole che non ho fatto il processo di quella che nervoso mamma mia voi non sapete il nervoso però purtroppo questi sono live nel senso che non posso dire vabbè lo rimetto dentro in qualche modo ve lo faccio vedere non si può metti a fuoco almeno oggi sei una disperazione senti il caldo anche tu sorprese entrambe molto molto carine lei sinceramente me l'aspettavo più grande non così in miniatura questo molto molto simpatico e niente un video molto carino mi raccomando rimanete diciamo nel mio canale per vedere i prossimi unboxing lasciatemi un like un commento iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video grazie a tutti e alla prossima ciao